buonasera buonasera a tutte e tutti e benvenuti a questo nuovo incontro con nessun codice a barre e vi ricordo che questo spazio libero e gestito in collaborazione con la testata online basilicata 24 e quest'oggi voglio sentitamente ringraziare la redazione pugliese della repubblica per aver dato spazio a questo evento sulle proprie pagine è stato un bel gesto che abbiamo tutti molto apprezzato e grazie questa sera abbiamo degli ospiti molto cari degli amici per me molto 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 importanti e sono l'antropologo Vito Teti e lo scrittore Sandro Abruzzese che invito qui a stare qui con me eccoci buonasera buonasera Vito buonasera Sandro grazie per essere qui io vi 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 presento anche se forse non ce n'è neanche veramente bisogno però è buona norma regolarsi in questo in questo modo e quindi eh ricordo che Vito è un antropologo e insegna presso l'università della Calabria ed è autore di alcuni saggi fondamentali per capire le evoluzioni eh del nostro del nostro paese con particolare riferimento all'Italia cosiddetta dei paesi all'Italia interna e in particolare alla sua Calabria è autore di saggi fondamentali tra cui io cito soltanto alcuni che sono quelli che poi ho personalmente letto tra cui quel che resta il vampiro e la melanconia il recente prevedere l'imprevedibile ehm ma anche maledetto sud qui stasera eh parleremo di una della sua opera più 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 recente che nostalgia eccolo qui edito da Marietti milleottocentoventi eh negli scorsi mesi ed è un saggio molto bello eh che verrà presentato in questa occasione attraverso un dialogo tra Vito e un altro caro amico di Nessun Codice a Bale nonché un carissimo amico mio che è Sandro Abruzzese che voi avete già incontrato qualche episodio fa potremmo dire perché con lui abbiamo presentato Mezzogiorno Padano ed è eh stasera si chiude un po' un cerchio molto molto importante per me perché come ricordavo ieri nell'incontro di preparazione con Vito e Sandro io ho conosciuto eh Vito grazie alla prefazione di Mezzogiorno Padano che è l'opera appunto di Sandro che abbiamo presentato qui qualche qualche mese fa Sandro è eh uno scrittore molto bravo ma eh contemporaneamente anche eh svolge la la professione di di docente lui è è un docente di materie letterarie eh a Ferrara quindi abbiamo due punti di vista il punti il punto di vista di chi resta questa sera e Vito ci parlerà di questo punto di vista il punto di vista della restanza che è un termine che egli stesso ha coniato e il punto di vista di chi parte di chi è fuori dalla propria terra perché Sandro è il Pino è di Grotta Minarda e in provincia di Avellino bene io prima di lasciare la parola a Sandro eh vorrei leggere in pratica l'incipit di questo di questo libro di nostalgia e poi Sandro ti cedo la parola ehm leggo a pagina sette nelle notti lunghe e insonni quando tornano tutti i miei defunti e rivedo i volti e le storie delle persone amate incontrate e conosciute e provo a immaginare come sarà domani perché domani ci sarà comunque apro le confessioni di Sant'Agostino forse questo libro non mi ha aiutato nella mia sempre agognata e cercata conversione ma mi ha insegnato a vivere diversamente a interrogarmi sul mio rapporto con il tempo e con gli altri la lezione essenziale e decisiva delle confessioni e che quando scrivi sia di finzione che di saggistica sia lettere che email sia di getto che in maniera accurata sia a flusso che con tanti ripensamenti l'unica cosa che non puoi fare è mentire a te stesso puoi certo mentire agli altri puoi essere insincero puoi scrivere con artificio cose in cui non credi ma non puoi raccontarti menzogne bugie non puoi nascondere quello che senti e quello che provi il lettore se ne accorgerebbe più di quanto tu possa immaginare ma soprattutto tu sapendolo comprometteresti l'opinione che hai di te stesso nel mio piccolo nella mia irrilevanza di autore in un libro sulla nostalgia faccio quindi la mia confessione in apertura del libro sono nostalgico la nostalgia non è il sentimento degli anziani ma come avrei letto in seguito comincia da bambino forse già appena nasci quando abbandoni l'acqua dell'utero o quando ti stacchi dal seno di mamma quella sensazione emozione sentimento desiderio che poi avrei sentito definire come nostalgia appartiene al mio vissuto fin da piccolo no non ho sentito per un po ora ora ci siamo vi avevo perso non so a che punto comunque comunque video ci siamo voi mi avete sandro tu mi sentivi ok ok va bene credo che forse anche gli amici e le amiche che ora vado a salutare sui commenti ci abbiano sentiti sandro vai vai pure lo spazio è tutto tuo partendo da questo bellissimo momento autobiografico perché vito e poi insomma a parte del suo stile quello di riuscire a a mescolare l'elemento autobiografico poi con con la solidità dei suoi studi io partirei direttamente con una domanda per lui e la domanda parte da un libro che entrambi amiamo molto ed è la luna e falò io penso che la luna e falò sia il libro che può rappresentare un po l'incontro tra me e vito perché io da giovane migrante meridionale in pianura padana scrivendo quelle storie di mezzogiorno padano raccogliendo quelle storie di migranti gli chiesi una prefazione e cioè ci fu un incontro che fu soprattutto un incontro di di doppi e di doppia sofferenza un incontro di dolore forse questo che comune condiviso eravamo l'uno il doppio dell'altro e penso che il nuto e anguilla i due protagonisti della luna e falò di pavese abbiano proprio questo questo ruolo insomma pavese sembra dirci attraverso questi due protagonisti che chi parte e va verso il mondo e si apre al mondo non può che farlo in maniera individualistica e quindi può redimersi autoredimersi cambiare vita se fortunato sopravvivere a tutto questo e dall'altra parte c'è chi resta cennuto e non si possono cambiare come dire le cose e la realtà da soli nel posto in cui si vive quindi c'è bisogno della collettività e quindi nuto la collettività anguilla è il destino solitario che dici Vito mi farebbe molto piacere sentire anche perché gli hai dedicato eh qualche riga e più nel tuo libro che cosa hanno significato per te e cosa ci rivedi di te sì Sandro intanto saluto tutti quanti vedo un po' di nomi di volti noti ma io devo dire non per scambiarci complimenti ma che considero questa serata questa presentazione tra le tante belle che ho fatto serate e iniziative una delle più significative perché sono in presenza di due cari amici più giovani di me per loro fortuna che stimo molto e che ritengo l'uno Sandro un bravissimo scrittore autore di belle note di viaggio un intellettuale poi le poesie di Alessandro fanno parte delle mie letture quotidiane ho cercato di dire qualcosa non da critico letterario su questo suo bel libro e anche Alessandro è uno che ragiona nel senso che è uno che conosce la letteratura di cui si occupa conosce la questione pugliese la questione meridionale quindi non siamo in presenza dei soliti scrittori poeti che scrivono senza leggere perché c'è questa categoria di persone che tendono a scrivere anche bene bisogna dire a volte però con scarsa attitudine alla riflessione al pensiero e Sandro tu mi fai una domanda bella e difficile Pavese ha fatto parte delle mie letture giovanili è stato un compagno di vita il mestiere di vivere negli anni 50 era un libro che tenevamo sotto braccio prima di arrivare poi negli anni 60 a Marcuse ai ragazzi di Barbiana eccetera e si era suicidato negli anni 50 nel 50 quando io nascevo a settembre e io per un certo periodo ho pensato che Pavese mi mi avesse influenzato conteggiato poi quando ho scoperto che era stato in Calabria al confine a Brancaleone dove ha incominciato a scrivere il mestiere di vivere proprio le pagine delle rocce losse lunari dove lui si interroga su una cosa molto bella cioè perché io non riesco a restituire l'anima il sangue di questi luoghi perché io non sono nato qui io posso restituire quelle delle langhe percepisco che c'è un Dio incarnato in questi luoghi però non è materia della mia poesia non vi nascondo che quando vado a Torino ogni tanto vado a farmi un giro nella stanza dove lui si suicidò non c'è nessuna ispirazione necrofila ma proprio un atto d'amore nei confronti di questo grande scrittore che cosa ci dice in quel testo che tu citi bene su cui hai scritto un bellissimo saggio secondo me che è difficile separare il restare e il partire e il tornare e quel brano viene citato spesso male viene citato spesso male lo notavi sia tu sia in maniera autonoma io e questo è molto bello perché un poese vuol dire non essere sole e viene portato come il mito no del paese l'elogio del paese la nostalgia di chi resta e il rimpianto di chi è andato via però poi subito dopo aggiunge ma un paese vuol dire anche no fatica tormento e alla fine questo paese che come dire per chi è andato via è un rimpianto perché è rimasto paradossalmente anche un dolore ed è una cosa che io trovo molto attuale perché per esempio noi dovremmo essere oggi nella situazione di non mitizzare molto i luoghi in cui siamo rimasti con un fortunato seminario direi che i posti in cui uno è rimasto costano fatica lacrime e sangue perché non è facile restare forse certe volte restare è più spaesante del partire più o lì hai difficoltà di integrazione hai difficoltà di adattarti rimpiangi il paese ma spesso chi resta vede che pur essendo rimasto il paese comunque è andato via è come se tu fossi rimasto in un posto che ti diventa estraneo quindi l'inquietudine sia di che parte sia di chi resta quindi come dire in un certo senso per consolarci siamo condannati a una doppia nostalgia che è partito è nostalgia perché è andato via che è rimasta nostalgia perché è rimasta e perché non è andato via e quindi mi ha molto colpito questa cosa che tu dicevi del fatto che ci sono due nostalgie due anime della nostalgia come se esistesse una nostalgia passiva dico tra virgolette no è quella che tu sposi completamente che è la nostalgia attiva è quasi la tua lettura di questa antropologia del sentimento del presente è quasi come se tu dicessi che la nostalgia è da un certo punto di vista il motore della storia e c'è un passaggio su cui ti voglio portare che è proprio quando tu a un certo punto parli dell'America l'ennesima passione in comune di Abiano di Bruce Springsteen e la canzone il folk americano questo grande popolo che poi viene spesso come dire viene demonizzato per quello che noi riusciamo a vedere viene demonizzato l'aspetto istituzionale politico che è molto lontano dalla nostra sensibilità a volte anche se Biden adesso sta ci sta dando un'ondata di incoraggiamento però tutto sommato si confonde il popolo americano che è un incontro anche competitivo di etnie e da queste etnie e quindi da questo enorme sentimento di nostalgia nasce nasce la più grande potenza del mondo mai esistita quindi come dire da un insieme di migranti nostalgici che competono etnicamente nasce e quindi lì c'è quello che tu secondo me sostieni c'è il motore della storia è una nostalgia attiva nel dare tutto all'infuori del contesto di appartenenza sì ci sono alcuni studiosi dei movimenti sono d'accordo con te dei movimenti migratori che che mostrano come l'evoluzione della specie di Homo sapiens in qualche modo sia legata proprio agli spostamenti delle persone dei gruppi umani che spostandosi trovano nuovi luoghi incontrano nuove persone questo è un motore come dicevi tu della della storia d'altra parte volendo fare come dire il controcanto accanto ai milioni di persone ai miliardi forse di persone che si spostano ci sono i miliardi di persone che restano quindi cioè il partire in qualche modo è possibile perché qualcuno è rimasto in quelle belle brano iniziale che Alessandro ha letto e che io ringrazio anche per essersi assunto questo compito poi essere letto da un poeta è un onore e io accenno uno al fatto che la nostalgia non è legata sicuramente all'età io ero nostalgico per intenderci da da bambino era nostalgico dell'America di mio padre dei compagni che andavano via e quindi non è un fatto di vecchiaia certo adesso sono diversamente nostalgico e dove è quello che dici tu forse esasperando la cosa l'uomo sapiens è un uomo nostalgico è un uomo che comunque è sempre altrove non è mai nel posto in cui si trova diceva un autore molto bravo di dimensione europea Corrado Alvaro parlando dei calabrese un calabrese è fermo anche quando è a migliaia di chilometri di distanza dal luogo d'origine e si muove e mobile anche quando sta seduto dietro una scrivania allora forse si tratta di capire come dici tu come è possibile fare i conti con la propria nostalgia con l'abitare con il ritrovare se stessi nel mondo in cui si è rimasti o si è arrivati o nel mondo in cui si torna e che forse la scommessa è trasformare come dicevi tu la nostalgia in un sentimento non retrattivo ma sovversivo rivoluzionario per andare avanti non per tornare indietro per rimonestando che quello che abbiamo indietro va riscattato va recuperato va ricordato ma non può essere ripristinato e quello che diceva Pavese che tu hai hai letto e come dire commentato non si torna mai al punto di partenza perché dopo che Anguilla è andato di una maere che ha fatto fortuna quando torna non riconosce nulla e soprattutto non viene riconosciuto da nessuno quindi poiché è impossibile tornare indietro dobbiamo studiare dobbiamo cercare di capire se è possibile e come è possibile andare avanti Sandro io se se non hai da da commentare subito approfitterei leggendo un altro un altro brano perché è calzante rispetto a quello che avete finora rispetto a quello che avete finora detto ed è l'inizio del paragrafo che si intitola la nostalgia di chi resta a pagina 120 del libro la nostalgia non è soltanto il sentimento di chi parte ma anche di chi resta la nostalgia dell'altrove riguarda anche chi è rimasto e assiste alla fine del mondo in cui è nato alle trasformazioni così forti e inattese da farlo sentire straniero in patria chi ha visto partire familiari e amici chiudere case morire persone si sente in qualche modo custode del paese rimasto conserva memorie del mondo che scompare vive l'amarezza di un guplice scacco della nostalgia a desiderio dell'altrove senza essere mai partito deve ritornare al passato di luoghi che non ha mai abbandonato egli è il melanconico abitatore di un mondo da cui non si è mosso è il nostalgico sognatore di un mondo che non conosce nella tradizione culturale dell'Occidente il nomadismo ha affascinato più della stanzialità l'erranza più della permanenza l'attesa e la nostalgia di chi resta sono state narrate assai meno di quanto siano state raccontate le avventure e le nostalgie di chi è partito eppure le due esperienze sono profondamente intrecciate il viaggio di Ulisse non avrebbe senso senza l'attesa di Penelope e nemmeno l'inquieta fuga dell'ibseniano Per Gint senza il tenace amore di Solveig che lo aspetta paziente e lo redime con amore ecco io qui per esempio parlando da Ferrara mi viene in mente un grande grande amante dei luoghi che è stato Giorgio Bassani allora io pure ogni tanto faccio con Bassani quello che tu dicevi di fare con Pavese Vito cioè vado al cimitero ebraico e silenziosamente sto lì in quel mondo di morti in quel mondo di morti perché Bassani riteneva proprio in maniera questo molto antropologica che una comunità fosse proprio un insieme tra dei vivi che ricordano i morti che il presente l'avvenire sia comunque basato sulle fondamenta di un ricordo no? Ovviamente Bassani che era un uomo come dire ottocentesco da un punto di un borghese di una famiglia ebraica bene quindi aveva questo piglio ottocentesco quasi aristocratico questa idea sepolclare un po' come Foscolo però è nella tradizione italiana se ci penso questo culto dei morti e ovviamente questo culto del meglio della difesa del meglio che una civiltà abbia prodotto no? E poi Carlo Levi lo dirà di Aliano dirà questo paese riposa sulle ossa dei suoi morti no? Io potrei estendere dicendo ogni paese riposa sulle ossa dei propri morti e però accade questa cosa che quando si emigra e poi si hanno dei figli che cosa succede? Quando si muore spesso si vuole essere seppelliti nel posto in cui si è nato creando un'assenza e un dolore nei figli che restano eh niente pensavo Vito questo questo è un ennesimo strappo no? eh cioè avere quindi emigrare avere dei figli che fanno la loro vita lontano eh quindi una vita anche di nostalgia e poi scegliere di essere seppelliti nel luogo nativo lontanissimi dai propri figli magari anche separati dall'oceano come può essere il caso di tuoi tanti amici di Toronto sì mi viene in mente per rafforzare quello che dici tu un'altra tradizione quella degli ebrei orientali quando Rotta adesso non mi ricordo in quale libro dice che noi apparteniamo al posto in cui sono sepolti i nostri genitori e quindi io capisco che la persona che more preferisce tornare là dove tutto sommato si sente di appartenere anziché restare in un posto dove poi non sa che ne so se i figli resteranno se c'è questo aspetto abbastanza paradossale interessante molto il fatto che gli emigrati morti a Toronto per esempio anche se sono sepolti a Toronto vogliono che venga messa una lapide qui chiaramente senza bara no con la fotografia la data di nascita e di morte non solo ma anche quelli che muoiono qui e non sono andati mai a Toronto mettono nei cimiteri di Toronto la scritta con la data di nascita e di morte quasi per ricongiungersi simbolicamente con i figli che sono nati è una cosa complessissima io l'altra sera perché sto scrivendo una specie disagio che si chiama il mio paese è Toronto il mio paese è vuoto aveva 5.000 abitanti nelle 51 adesso ne ha 1000 la strada dove io sono nato era pienissima adesso non abita nessuno è morta una delle donne che abitava in questa ruga che io conoscevo da bambino ho sentito il cognato e mentre parlavo a Toronto dalla mia stanza vedevo la cassola di fronte che io immaginavo un tempo tornasse a vivere invece si è svuotata e mentre parlavo ricordavo questa persona che oramai ho 80 anni diciottene che teneva sulla mano una nipotina che poi è morta per cui io facevo come dei filmi di questa storia lunga di questo non ritorno ora quello che noi diciamo stiamo cercando di dire diventa più doloroso e più lancinante perché mentre prima le case come dire perdevano una persona il capofamiglia ma c'era una prosecuzione c'erano i figli c'erano i nipoti nonno chiudevano non morivano le case con la persona c'era un ricambio generazionale adesso una morte no significa la fine di quella persona significa la chiusura di quella casa la chiusura della ruga la chiusura della comunità e allora tu capisci che chi è rimasto veramente assiste mentalmente fisicamente culturalmente alla fine del mondo io ti posso dire che lo trovo lo vivo forse solo io in maniera completamente come dire angosciante anche dolorosa e non trovo confronto e conforto per esempio nelle nuove generazioni nei giovanissimi nei miei figli che da quando sono nati hanno visto sempre chiuse quelle case quindi per loro le case chiuse il paese voto in qualche modo ha una sua inquietante normalità non hanno volti da rimpiangere non hanno storie da ricordare non hanno tombolate a cui hanno partecipato non sono andati a fare a chiedere la strena non hanno dato gli auguri di capodanno alle vecchiette eccetera non c'è una storia era e nel vuoto allora tu capisci che lì è veramente difficile comunicare perché questo fenomeno di spopolamento di svuotamento dei luoghi che non riguarda solo i piccoli paesi ma anche i centri storici è qualcosa di veramente devastante che andrebbe come dire compreso meditato poi non so se c'è qualcosa da fare certo l'unica cosa da non fare è andare compiaciuti in questi luoghi immaginare che gli ultimi che sono rimasti siano delle persone felici ma nello stesso tempo pensare anche che siano paradossalmente la sto facendo lunghe mi scusate gli ultimi potrebbero essere i primi di un nuovo mondo c'è un paese che conosco tramite l'avevo osservato l'ho fotografato l'ho descritto e adesso tramite un'amica una docente molto brava Felicia Viori che frequenta è una famiglia che vive a Ferruzzano la gente va e gli dice questo è un paese abbandonato dice no perché abbandonato ci siamo noi abitiamo noi sono quattro no però abitano quindi c'è come dire una sorta d'idea nuova dell'abitare forse di segreta e improbabile speranza o probabile speranza che non avrà esito che i luoghi potrebbero ripopolarsi e qui però va a cozzare con altri problemi la demografia il fatto che non nascono le persone il fatto che non ci sono politiche per il recupero delle aree interne che non ci sono progetti economici che si continua a chiacchierare di rigenerazione dei luoghi e invece i giovani continuano a partire e si parla molto di tornare e in realtà non si torna ecco poi su questo punto ti volevo vi volevo e anche Alex che vive a Lecce vi volevo sentire e su quello appunto di partire e tornare colgo proprio quello che tu stavi dicendo ricordo che io negli anni negli anni veneti insomma negli anni nei tanti anni in cui sono stato in pianura padana anche in diverse regioni e affetto da nostalgia affetto da una ricerca delle origini che mi ha portato poi in strada appunto alla ricerca di storie rimasi proprio sbigottito da ministro di governo di centro-sinistra che all'epoca era Tommaso Padoa Schiop a me pare il quale disse che che gli italiani i ragazzi italiani era dei bamboccioni perché non si muovevano non non volevano appunto spostarsi non volevano partire ora a parte che io vedevo un'Italia fatta di un mette in pot di partiti di persone quindi ovunque ci si sposta ormai la frammentazione come ha anche messo a fuoco Bauman in maniera molto molto ecaustiva la frammentazione è proprio e la liquidità è proprio la cifra di queste almeno dei paesi moderni diciamo occidentali però arrivo al punto che hai toccato tu a me pare che la continuità generazionale sia il punto che a volte ci sfugge che a volte sfugge soprattutto a chi ha un figlio economicistico in queste economistiche e che sia un elemento porre alla base di questa nostra convivenza l'assenza di continuità generazionale come prerogativa sia un elemento anti-umanistico ecco e quindi e quindi mi chiedi e mi chiedi non aggiungo altro perché sono d'accordo stai facendo una riflessione che condivido e quindi vi chiedo come come è possibile costruire abitare dimorare senza la continuità direzionale cioè la continuità generazionale e il rapporto intergenerazionale cioè costruire abitare con generosità nel senso che essendo consapevoli della nostra provvisorietà è che quello che faccio fra vent'anni sarà di qualcun altro no? e e Riace la Riace di Lucano crea un rapporto intergenerazionale e crea una continuità generazionale fittizia nuova una sorta di utopia concreta che poi viene sabotata in ogni modo perché è la prova è la prova che si può anche nel piccolo inventare la verità inventare la realtà no? Tu che l'hai conosciuta e che sei stato anche vicino fin dai tempi di 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 volevo sapere un tuo punto di vista che possibilità abbiamo nel momento in cui ci dicono che noi non che che se chiediamo la continuità generazionale siamo dei bambocci ma io credo che questa continuità generazionale si è interrotta per una serie di notizie di notizie di di eventi e di che non che non hanno fatto che non hanno fatto molto notizia eh è successo nella scuola è successo per questa modernizzazione violenta è successo perché venendo meno le persone è difficile stare fare come dire mantenere dei legami di di continuità per esempio la mia generazione da giovane partecipava alle vicende politiche anche alle vicende conviviali alle serate alle serenate alle mangiate con quelli di dieci anni più grandi di vent'anni più grandi questo questo non non accade più perché c'è stata una gestura diciamo storica una una catastrofe ora immaginare che tu possa risolvere questo vuoto di di memoria e e di legami e di rapporti con interventi di tipo economicistico è il modo più errato per per affrontare il problema perché io credo che i paesi avrebbero bisogno di centri di aggregazione culturale di centri di socialità di convivialità e di nove forme produttive di lavori creativi e innovativi cioè se non è possibile fare tornare molta gente o arrestare del tutto il declino convincere le persone che ci sono che conviene restare io fino a quando ho insegnato fino all'anno scorso rispetto al passato quando all'inizio degli anni 90 per esempio i miei studenti dall'università ricordo certi discorsi con Sandro Nofri quando veniva a presentare i suoi libri tutti volevano partire andare via adesso il numero delle persone che vogliono partire è diminuito di rallunga io penso che il 90% delle persone dei ragazzi resterebbero perché non c'è più il mito dell'altrove abbiamo visto che l'altrove è in crisi che le città le periferie hanno i loro problemi anzi qualcuno tenta di tornare però potremmo andare incontro a un ulteriore smacco che sarebbe un disastro per il sud che tornano a fare i ragazzi o che restano a fare se non hanno le scuole i mezzi pubblici gli ospedali che abbiamo demolito i servizi se le strade sono impercorribili se tu cerchi di attirare le persone in un deserto non abitabile li mandi via e quindi è come dire è qualcosa che si morde la cova cioè le persone non vogliono restare vanno via ma non vogliono restare perché tu non l'hai messo in condizione di restare allora qui ci vorrebbero dei progetti delle politiche lungimiranti degli interventi che siano di natura antropologica di natura culturale di natura relazionale sociale la comunità e l'insieme di legami di rapporti non è l'intervento pubblico recuperare un palazzo cadente che poi una volta recuperato non verrà utilizzato perché è un incenso storico che si è esotato quindi la reggisione dei rapporti di una comunità che viene come dici tu schegge che vanno sparpagliate per il mondo diventano produttive in altri luoghi assolutamente sì Sandro da un punto di vista personale io ed altri amici quindi non voglio farne un caso personale ma generazionale sì viviamo una doppia ingiustizia noi siamo i figli di persone che sono emigrate e quindi da ragazzi noi non abbiamo visto i padri o l'abbiamo visti poco abbiamo visto le Penelope abbiamo visto le grandi madri abbiamo visto le madri un abbraccio ideale a tutte le madri presenti e comunque presenti anche se se non ci sono e era un'ingiustizia tu declinavi termini come lontananza assenza attesa proprio per questa storia poi grazie ai sacrifici alla fatica enorme al dolore di questa generazione di emigrati la mia generazione è la prima del 68 che produce laureati diplomati l'accesso alla scuola eccetera e quindi tu hai immaginato di avere fatto un salto avanti che quel sacrificio quella mobilità quella dinamicità sia servito a qualcosa invece adesso ti trovi a vivere l'ingiustizia di assistere alla partenza dei figli che debbano andare a studiare fuori che tu hai allevato qui hai formato qui spendendo i soldi per ricrescere e che debbano andare a portare il loro capotale economico umano esistenziale affettivo altrove e questo è profondamente il disgusto quando non è scelto perché se scelgono di andare va va benissimo ma se sono costretti ad andare tu dici perché mai cioè io sono stato la generazione che non ha avuto i padri adesso non ha i figli e d'altra parte come fai a dire a un figlio resta qui per non fare nulla in attesa di nulla così senza senza lavoro senza un posto di modernità pur nello stesso tempo essendo come dire contemporanei perché poi sono persone che navigano su internet che conoscono i dischi che conoscono la letteratura la musica eccetera però tutto questo non si trasforma in rapporti reali in vita vera quindi tu devi accettare che questa ingiustizia avvenga nell'indifferenza totale con questa classe politica che continua a parlare di fondi europei di miliardi che arriveranno eccetera però non mi pare che ci sia almeno finora un progetto per rigenerare per rendere di nuovo abitabili questi luoghi e quindi alla lunga anche tu Sandro sì torni perché ci sono i tuoi genitori eccetera ma poi domani i tuoi figli perché dovrebbero tornare nel tuo paese di nascita molti immigrati dal Canada dagli Stati Uniti non tornano nel paese perché non hanno più una casa dove abitare e quindi vanno in Florida vanno a Cuba quando invece le case sono tutte vuote si potevano recuperare ristrutturare quelle case cadenti e almeno dare la possibilità un mese all'anno ad alcuni emigrati da tornare sarebbero stati piccoli segnali ma poi come si dice ogni piccolo segnale può nascere meccanismi di crescita di scambi di incontro e così via tutto questo non mi pare che sia avvenuto perché il rapporto tra rimaste e partiti e questo lo trovo interessante è stato molto retorico strumentare l'emigrata è quella a cui devi dare la pacca sulle spalle è quello che conosce il termine dialettale più di quello che è rimasto in paese è quello che mi veniva detto no? solo che però l'amico canadese che guidava il camion e ricordava il proverbio meglio di me poi parlava inglese poi parlava tedesco e poi si muoveva in una metropoli quindi tutta questa finzione che uno era rimasto come era partito è anche assurda e quindi noi abbiamo utilizzato più il proverbio più l'arcaicità più la nostalgia retrattiva anziché intercettare quanto di nuovo di originale erano riusciti a costruire e accogliere le novità che avevano come dire elaborato e che potevano portare nel paese e invece noi siamo rimasti a questa immagine paradossale duplicemente edulcorata del rimasto nei confronti del partito e del partito nei confronti di quello che è rimasto Sì Sandro io vi voglio interrompere perché ci sono degli interventi da parte di amici e di amiche che ci stanno ascoltando ed è giusto che li commentiate magari insieme c'è innanzitutto Matilde Spiniello che scrive nostalgia prende chi è partito e spinge il ritorno ma nostalgia prende anche chi resta e vorrebbe partire è un sentimento senza tempo e senza età gli anni ne consegnano solo il peso talvolta faticoso e inestremo insopportabile poi ricollegandosi a quello che dicevate c'è Leonardo Palmisano che saluto il quale scrive forse se accogliessimo gli stranieri giovani che arrivano troveremmo il modo di rifare una storia popolare in questi tanti borghi svuotati e qui un po' ci si ricollega a quello che dicevate sull'esperienza di Riace e di Mimmo Lucano che prima Sandro rammentava poi c'è Marianna Pozzulo che è una cara amica nonché una delle fondatrici di una realtà che si chiama Bentornati al Sud e che insomma lei scrive c'è chi torna al Sud anche nei piccoli paesi loro sostanzialmente Vito raccontano le storie di chi è andato ed è tornato ha deciso di tornare insomma anche portando la propria esperienza ciò che si è imparato fuori reinvestendo tutto quanto compresi tutti i propri sogni su alcune realtà del Sud poi c'è Nicola Grato il caro Nicola che scrive qui a Mezzoiuso ho tante case chiuse muore una persona e si chiude una casa questo è un dramma altro che paesi della Domenica ci volevano vendere questi paesi come nuove mete turistiche borghi da esplorare occorre avere rispetto per i paesi al di là delle strategie per le aree interne inefficaci e che si occupano per lo più di paesi già baciati dal sole c'è molta densità in questo in questo messaggio di Nicola Bruna De Marini si scrive Riace è stato uno sfregio a Lucano da parte di Gentucola che non sa guardare al futuro e poi c'è Carlo Cardinale che scrive e che saluto anche lui come tutti gli altri e le altre senza grandi progetti complessivi sulle aree interne che partano dall'essere umano che vive i paesi e i luoghi saranno solo scenario cinematografico e meta di gita di Pasquetta ma tenderei a sottrare ai politici d'oggi ogni decisione in merito lasciandola ad un incontro tra studiosi e abitanti i luoghi c'è un po' di amarezza in Carlo che conosco e che è una persona che ama molto i nostri paesi in particolare tra Puglia e Lucania poi c'è Gregorio Morabito che scrive si vuole disgregare dopo i lunghi ieri le famiglie oggi le famiglie oggi grandi ah no professore oggi si assiste alla disgregazione per imporre una falsa società del bene e infine leggo di Eugenia di Ciaula professore la parola nostalgia in greco è dolore del ritorno cosa può mitigare il dolore nostalgico di coloro che sono lontani perché costretti ad abbandonare la propria terra e che prima o poi tornano beh molto belli beh io non possono essere commentati perché sono come dire delle considerazioni delle affermazioni che io condivido interamente certo poi su ognuna di queste riflessioni si potrebbe discutere discutere a lungo è molto bello che ci siano delle persone che stanno cercando di tornare è un sentimento anche abbastanza diffuso però ecco questo ritorno andrebbe sostenuto economicamente moralmente culturalmente penso anche che poi bisogna andare a vedere paese per paese in questo senso scusa ha un senso quello che diceva il tuo amico disincantato che più che politici forse nemmeno gli studiosi ma i locali debbano essere protagonisti del loro destino e i locali capiranno se quel paese ha le caratteristiche storiche urbanistiche per puntare sull'accoglienza piuttosto che sul recupero del prodotto per puntare sul turismo intelligente che sulla valorizzazione del bene culturale io non penso che ci possa essere come dire una linea guida valida per tutti i posti e non penso d'altra parte che paesi vuoti su questo vi prego di capire in che senso lo dico paesi completamente vuoti ripopolati totalmente da persone che vengono da fuori sarebbe bello ma sarebbero un'altra cosa non sarebbero più quei paesi quindi noi dobbiamo puntare a forme di accoglienza di integrazione di incontro tra coloro che sono rimasti coloro che arrivano coloro che tornano intendono tornare e poi all'amica che mi dice che fare per la nostalgia di chi è fuori e di chi torna io vorrei sapere che fare per la nostalgia di chi è rimasto e che è una nostalgia struggente e pressante secondo me dobbiamo vivercela dobbiamo assumercela renderla carica morale carica emotiva affettiva quello che dicevate sui defunti quello che racconta nelle sue poesie anche Nicola Grato è fondamentale questo dialogo con coloro che non ci sono più con le madri con i morti i nostri paesi sono stati questo qua parlare con i defunti significa interrogarsi sul senso della vita sulla continuità della vita e quindi io dico io parlo dialogo con i defunti proprio perché sono contro la morte e sono contro la morte non perché posso sconfiggere la morte o so di poterla sconfiggere ma perché essere contro la morte e essere contro questo sistema questo regime che ha che ha eretto la morte a modo di essere a modo di di vita sono morti 500 persone e viene detto così a passare un milione di persone in India e trovo molto cinico tutto questo o ridurre la vita di milioni di persone a una cifra a un numero in questo senso sono contro la morte e solo chi ha pietà sentimento di ciò che è stato di quello che resta di quelli che sono stati prima di noi possono cercare di affermare le ragioni della vita avendo chiaro che noi non sappiamo in che direzione stiamo andando avendo chiaro che noi forse stiamo costruendo l'ennesima trappola per l'umanità cioè non è vero che questa pandemia e finisco ringraziando veramente interventi bellissimi quelli che ci hanno ascoltato ci ha insegnato tantissimo questa umanità noi non stiamo cambiando noi non abbiamo preso atto di quello che è successo noi siamo quasi portati a vivere come una sorta di incidente quello che è avvenuto e poi domani si ritornerà a quello di prima no è impossibile tornare a quello di prima non bisogna tornare a quello di prima perché oltretutto le grandi sfide per esempio la grande crisi climatica contemporaneamente sta avanzando il mondo sta andando verso la deriva e non se ne accorge sta rimuovendo questo problema che cammina assieme alla pandemia alle guerre alla fame nel mondo e allora mi pare che questa pandemia da questo punto di vista non ci ha insegnato nulla benvenga chi l'avrebbe detto mai Papa Francesco II che dice che bisogna liberare vaccinare tutti quanti aiutare e sostenere tutto il mondo siamo tutti sullo stesso pianeta e non capiamo nemmeno che se come diceva qualcuno che apparteneva al marxismo tradizionale che finché non c'è una persona che non è libera l'umanità non è libera che non c'è una persona che non è in sicurezza nessuno di noi è in sicuro ci salviamo tutti assieme o non ci salviamo affatto in questo senso la comunità deve essere fatta da persone che stabiliscono relazioni che hanno una stessa non visione del mondo ma una stessa voglia di stare assieme nel mondo scusa mi sembra no ti volevo rispetto a questa vostra riflessione che una cosa da nord come dire anche per in qualche modo ridimensionare la sensazione di specialità o di specificità del sud io qui vado costantemente in giro soprattutto per l'est ferrarese e quindi che tra l'altro fa parte delle aree cosiddette marginali in via di spopolamento e devo dire che qualsiasi paese in questa realtà è annichilito e mi pare che questo sia qualcosa che abbiamo in comune con l'unica differenza che i paesi e le comunità che almeno attraverso io del nord Italia è come se avessero ormai rinunciato al discorso sulla comunità non tutti ovviamente è come se avessero abbracciato ormai la modernità intesa come mobilità e come e come anche come dire rapporto di minore conoscenza con quello che c'è intorno e con i luoghi la differenza grande drammatica è proprio magari il lavoro nel senso che almeno in questo nord i ragazzi a 18 anni anche molti allievi a 19 anni non hanno particolari problemi ad entrare nel mondo del lavoro ma per il resto siamo molto molto in sintonia su certi temi e invito anche a guardare il fenomeno come dire leghista che non è solo separatista ma nasce anche come dire da uno smarrimento di base da parte di paesi luoghi che sono stati in cui le comunità sono implose proprio proprio perché in un mondo anche in questa rete padana di città medie c'è vita solo come da ogni altra parte nei luoghi di dai 30.000 abitanti in su per il resto quindi abbiamo molto in comune e quindi io inviterei sotto questo aspetto ad avere uno sguardo nazionale perché acquistiamo più forza più consapevolezza e possiamo mettere in rete anche cioè non ne farei solo un discorso di tornare al sud ma un discorso nazionale di salvaguardia dei luoghi quindi diritto al lavoro quindi la costituzione quel bell'articolo che tu hai scritto sul fatto quotidiano appunto la strada madre della costituzione sia per il LEP ovviamente che per il primo articolo cioè è una repubblica fondata sul lavoro e quindi la dignità del lavoro è libertà che ci consente poi di uscire anche da questo discorso della comunità per sottolineare che nella comunità come diceva Vito ci sono anche i privilegiati e ci sono quelli che rendono asfittica le istituzioni la comunità e che rendono ben accetta la partenza proprio perché hanno uno spirito non comunitario oppure di una comunità tribale etnica che non è più sicuramente non ha un senso democratico sì Sandro hai colto perfettamente anche quello che fa parte del brano che anche il contenuto del brano che volevo volevo leggere tra poco io mi permetto di aggiungere qualche considerazione ti ringrazio per aver ricordato quell'articolo scritto sul fatto quotidiano la settimana scorsa che un po' voleva mettere il dito nella piaga e cioè noi abbiamo già una costituzione che in sostanza ci indica la via per intervenire anche ai fini della riduzione degli annosi divari che sussistono tra le macro aree come si suol dire del nostro paese tu citavi l'articolo 17 comma 2 lettera M sostanzialmente attuandolo anche il federalismo all'italiana che è un federalismo da tutti visto come un federalismo un po' claudicante forse potrebbe sortire qualche qualche beneficio in quanto sostanzialmente indicherebbe la via della spesa anche delle risorse in arrivo con il recovery fund ma in realtà tutto si vuole tranne che attutire i divari al contrario si vuole continuare probabilmente a gestire una politica di piccolo cabotaggio la politica della retorica del localismo del particolarismo dell'accaparramento avido delle risorse che va nella stessa direzione del mondo di cui parlava Vito poco fa del mondo della cosiddetta normalità tuttora leggiamo dopo questi lunghi e tormentati mesi di pandemia sui media dei titoli che invocano che auspicano il ritorno alla normalità ma quale normalità proprio giorni fa leggevo Pandemio Cene un libro molto interessante un pamphlet di Nico Catalano e Michele Sozio in cui appunto si diceva ma qual è la normalità che agogniamo a cui agogniamo ritornare quella che ci ha portato in queste condizioni quella di un'umanità che sostanzialmente non si è resa ancora conto di trovarsi su una zattera a zonzo nel cosmo di cui anche abbastanza poco sappiamo e con risorse limitate e siamo in tanti e dobbiamo amare insomma la terra su cui ci troviamo invece la stiamo distruggendo con l'avidità che caratterizza un po' anche qui forse dico un'eresia ma spesso caratterizza molti gruppi umani e quindi finalizzata all'accaparramento delle risorse delle terre a danno di una maggioranza che soffre come ricordavate prima però ecco quello che vorrei fare sarebbe insomma invitare anche gli amici e le amiche che ascoltano la lettura dei saggi di Vito in particolare ora oggi parliamo di nostalgia perché come ricordavi prima tu Sandro Vito ha questo approccio alla saggistica con una cifra che è molto anche soggettiva molto emozionale ci sono traspaiono le emozioni di chi scrive sì c'è antropologia ma c'è anche una lettura molto personale che permette anche a un profano come me di leggere un saggio di Vito Teti e soprattutto io lo devo ringraziare vi devo ringraziare per essere stati qui ma devo ringraziare Vito perché invita alla sintesi l'hai fatto anche tu poco fa delle esperienze e non alla conflittualità retorica tra chi è partito tra chi torna tra chi resta perché quella conflittualità non ci aiuterà mai quella conflittualità è alla base della permanenza delle cose nello stato in cui si trovano e invece probabilmente proprio quello che auspichi tu Sandro quella sintesi di esperienze può servire a superare le differenze tra le nostre scelte che spesso sono delle scelte obbligate delle scelte sofferte non tutti coloro che restano probabilmente fanno del bene al proprio territorio io ricordo sempre che i sodali del gatto pardo sicuramente avrebbero fatto meglio a partire ad andare molto lontano invece di di restare e viceversa tante di quelle energie di quelle potenzialità dei ragazzi che sono partiti penso a Sandro per esempio quanto bene avrebbero potuto fare alla terra di provenienza e invece come diceva Vito sono energie che si stanno tra virgolette spendendo su altri territori dopo essersi formate sul proprio dopo che il proprio territorio è investito sulla loro formazione e adesso guardate io vi leggerei se siete d'accordo un altro piccolo brano e poi se volete potete poi magari vi leggo dopo anche qualche altro intervento che nel frattempo vedo che si sta accumulando quindi prima di chiudere è giusto che ve li legga vi leggo questo piccolo brano ed è l'ultimo che leggo oggi è tratto da La memoria sovversiva sempre in nostalgia pagina 220 Edward Thompson è tra gli autori che segnalano come la storia delle vie mai imboccate dei fallimenti sia la storia delle discontinuità dei fili spezzati dei frammenti delle contingenze scrivere la storia dell'utopia vuol dire desiderare un futuro dipinto con i colori della nostalgia passata di una nostalgia capace di immaginare un futuro diverso da quello realizzato la nostalgia non è più un concetto adatto a neutralizzare la storia è capace di sprigionare a certe condizioni dinamiche sovversive cercare l'utopia nel passato non significa essere nostalgici di una felicità perduta ma rintracciare piccole isole di intimità nel mare della sofferenza il passato può e deve essere riscattato come un universo sommerso di potenzialità diverse non compiute ma suscettibili di future realizzazioni un riscatto un risarcimento una restituzione che diventano un esercizio morale attraverso cui pensare il presente non nella forma di quello che è ma nei termini di quello che potrebbe essere bisogna però non indulgere alle retoriche della nostalgia e delle invenzioni della memoria se è necessario possedere un villaggio vivente nella memoria non bisogna abbandonare la memoria nel villaggio la memoria deve sottrarsi all'irretimento di un paese morto che non parla più scomparso per sempre bisogna camminare e saper tradire dimenticare il villaggio non restare vittima dei suoi pericolosi defunti la memoria del villaggio non deve diventare retorica del buon tempo antico mai esistito e invenzione di origini illustri e gloriose deve essere costruzione per non perderci non elemento di negazione e prevaricazione degli altri che hanno altre origini e altre patrie allora dimmi dimmi Sandro cosa saremmo vinto senza nostalgia noi temo 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 nulla perché nell'accezione in cui l'adopero ha a che fare con desiderio con sentimento dell'altrove con rimpianto con sogno con utopia e l'uomo è questo qua è immaginazione è fantasia è desiderio di migliorare il mondo è rimpianto quindi in un certo senso ma proprio per per paradosso l'uomo sapiens è anche soprattutto uomo nostalgico che va avanti indietro che inventa che sogna che riscatta il passato che lo dimentica e tutto questo ha a che fare con le caratteristiche dell'uomo che sono appunto l'immaginazione la fantasia la creatività la ricerca morale la voglia di cambiare il mondo volevo dire che è molto bello quello che dici tu perché il problema non è riabitare San Nicola Calitri è riabitare l'Italia riabitare i luoghi anche la vecchia distinzione nord-sud ha poco senso di esistere in realtà il problema è tra aree interne e aree come dire che sono diventate dei non luoghi per questo per esempio c'è un fiorire di legami tra paesi degli appennini delle alpi che sono sono in rete stanno lavorando ponendosi questo problema di riabitare non un paese ma l'Italia ma secondo me proprio riabitando un paese noi possiamo riabitare il mondo c'è uno scrittore che amo molto che è catastrofico apocalittico secondo lui non c'è più nulla da fare per la crisi climatica oramai siamo fuori tempo massimo Franzen e però dice nell'attesa che facciamo facciamo dei piccoli gesti quotidiani facciamo quello che ci piace amiamo le persone che ci stanno vicini curiamo la nostra casa il nostro paese perché tutto quello che avverrà domani non lo possiamo né prevedere né tantomeno scongiurare o implementare grazie vi chiedo scusa se ho parlato molto assolutamente è un piacere ascoltare te come ascoltare Sandro io visto che siamo più o meno in chiusura perché ho già abusato molto della vostra pazienza e disponibilità e vi ringrazio tanto voglio leggerti alcuni altri commenti che sono pervenuti e poi se vuoi Alessandro posso dire che ringrazio tutti quanti che mi possono scrivere anche a tetivito chiocciolagmail.com che mi dispiace di non riuscire a rispondere ma lo scrivo nei commenti tetivito chiocciolagmail.com .com ho un profilo facebook pubblico Vito Teti schegge d'ultimità dove mi possono anche scrivere perfetto grazie ho segnato l'indirizzo e segno anche quest'ultimo suggerimento e faccio passare un paio di commenti c'è Gregorio Morabito no l'avevamo già letto scusatemi e c'era no è vero questo è nuovo Gregorio Morabito aveva scritto prima ma adesso pone anche una domanda ritiene che la scuola possa essere un veicolo per dare un indirizzo di risveglio delle comunità nel valorizzare i territori ed accendere futuri interessi di sviluppo economico nelle future generazioni c'è questa e ce n'è un'altra vuoi rispondere prima? ma credo che la scuola sia il luogo primario essenziale da cui partire per che si contrasti questo declino bisognerebbe investire sulle scuole le università la cultura i musei ma la scuola dalle elementari dai nidi secondo me certo e poi c'è Stefano Modeo che scrive sono di Taranto e conosco bene i cattivi effetti di una modernità insufficiente o mal riuscita ricordo anche le riflessioni in proposito di Franco Cassano che recentemente ci ha lasciati la pandemia ha reso ancora più urgente una riflessione in questo senso allora forse oggi il tema è proprio questo di quale modernità necessita il sud oggi sarà in grado di rifiutare ciò che in realtà è solo l'altra faccia della stessa medaglia magari pensando a Taranto un po' più green è una bella domanda questa bravissimo poeta Stefano Modeo che ha scritto un libro La terra del rimorso ovviamente il titolo ispirato al nostro amato De Martino Vito e ho avuto il piacere di conoscerlo a Ferrara però ahimè è emigrato a Treviso noi lo salutiamo quindi mi ha lasciato anche è partito due volte Stefano credo di avere visto il titolo del libro comunque adesso me lo prendo lui lo dice tra le righe il sud non ha bisogno di cemento non ha bisogno delle ponte sullo stretto non ha bisogno dell'ilva ha bisogno di puntare tutto sull'ambiente sulle sue risorse sull'acqua sui boschi sui piccoli borghi sui prodotti sulla famosa e abusata sostenibilità sì magari da un punto di vista culturale io ricordo che i più grandi contributi a questo paese sono arrivati da persone che oggi sarebbero definite di aree interne e mi riferisco per esempio al contributo filosofico di Gramsci che è cresciuto in Sardegna nel cuore della Sardegna in un piccolo paese in realtà non piccolissimo di Larza che contributi originalissimi sui luoghi ci sono venuti da Alex Langer che è nato in una frazione di un paese montano del Sud Tirolo e e quindi nella nostra tradizione c'è un contributo delle periferie verso il centro che è e Vito credo che possa essere ascritto a questo tipo di tradizione che è incredibilmente feconda perché come diceva lo stesso Adorno dai margini dai margini si può vedere meglio come funziona un paese uno stato non è soltanto una questione di disaffezione per la metropoli è solo che ci vuole una reciprocità prospettica e quindi a noi nel momento in cui noi puniamo il discorso del Sud senza porre il discorso dell'Italia secondo me viene meno una reciprocità prospettica che ci serve perché il discorso italiano è anche quello che di andare verso una cultura Lange diceva non per il potere una cultura che sia realmente della libertà individuale della libertà che quindi diventa collettiva diventa valore perché altrimenti e parlo di me faccio un come dire dell'autobiografia altrimenti ci saranno delle persone tanti giovani che vorranno andare via per sentirsi liberi e quindi c'è una corresponsabilità una chiamata in correo da parte di tutte quelle istituzioni e di tutti quegli ambienti che ancora nel 2021 con lo spopolamento con il declino dell'Italia sono attaccati al potere sono attaccati proprio come i baroni di cui ci parlavano i fortunato o i grandi della questione meridionale come dire abbiamo cambiato casacca siamo diventati cetomedio siamo diventati è cambiato il blocco storico però quell'accaparramento e quell'amore egoistico per il potere fine a se stesso è molto più forte dell'amore per i luoghi e per le comunità e questo è un discorso italiano ovviamente che nei margini dell'Italia diventa diventa molto molto più dove il paese è più fragile si fa più cupo Sandro Vito se siete d'accordo dopo aver ricordato anche un altro intervento di Nicola Grato che citava l'esperienza dei ragazzi di associazione Nuova Carini un centro del palermitano scrive ragazzi che hanno voglia di ripensare il proprio territorio come finestra sul mondo luogo dell'agire terra da coltivare su cui lasciare un'impronta che è memoria e divenire attraverso un festival multidisciplinare azioni civili e soprattutto presenza nel territorio ecco io salutando ancora tutte le amiche e gli amici che ci hanno seguito Alex pretendo pretendo l'assist di Nicola che ringrazio io inviterei tutti quelli che ci hanno ascoltato di mandarci notizie di esperienze che vanno in quella direzione per fare una specie di mappa di quello che sta cambiando di quello che si sta facendo e perché no anche aprire uno spazio non abbiamo quel che resta i blog i profili nostri e mettere in circolazione queste idee che non camminano molto sui grandi giornali è vero è vero è una bellissima idea e spero che qualche amica e amico magari intendano raccoglierla perché in effetti questa operazione di raccolta di esperienze positive potrebbe essere veramente utile in effetti nell'ottica di tutto quello che ci siamo detti ora io nel congedarci ricordando il tuo bel libro Nostalgia che mostro ancora ecco quello che vorrei fare raccogliendo forse le intenzioni di Vito e sicuramente anche di Sandro è un po' dedicare questo nostro incontro di oggi alla bellezza insomma delle nostre delle nostre mamme in fondo quelle che ci sono e quelle che non ci sono più che perché in fondo i loro sogni vivono forse attraverso i nostri occhi e sulle nostre mani però ecco anche di sogni vorrei vorrei parlare prima che che ci congediamo perché vorrei che questo sforzo questo impegno vostro questo incontro di oggi così proficuo sia dedicato anche ai sogni di tutti di tutti noi e non solo ai sogni realizzati aggettivo che va molto di moda in questi giorni sui media ma soprattutto ai sogni che non sono stati realizzati i sogni che forse non riusciremo mai a tirare fuori dal cassetto in cui si trovano per varie ragioni spesso non dipendenti dalla nostra volontà ai sogni negati a quelli sofferti e a tutti i fili spezzati che penzolano nei nostri petti io vi ringrazio vi ringrazio tantissimo buona serata buona serata a tutti ciao a tutti buona sera grazie grazie grazie